La guerra dei libri gender, l'ultimo colpo è stato esploso qui a Bassano nella loggia del Podestà dove domenica sono stati letti dei racconti ai bambini, bellissima iniziativa. Peccato che tra i libri ci fossero anche quelli messi all'indice dal sindaco Luigi Brugnaro nelle scuole di Venezia. Oggi i cancelli della loggia sono ben chiusi, peccato che ormai le polemiche e le critiche sono scappate. Da parte della Lega le critiche ma soprattutto le polemiche non mi stupiscono, anzi ormai sono abbastanza frequenti. Ricordiamoci che molte amministrazioni hanno già messo al bando questi libri, Brugnaro giustamente gli ha censurati, invece trovano porte aperte a Bassano del Grappa. C'è stata una situazione che ha messo a disposizione dei genitori sia letture animate sia anche la possibilità di prendere dei libri e di poterle leggere autonomamente. Quindi a Bassano non ci sono libri messi all'indice? Lettura libera? A Bassano sono i genitori che decidono cosa leggere o cosa far leggere ai propri ragazzi. Io trovo vergognoso l'atteggiamento di questa amministrazione, in particolar modo del sindaco Poleto che è anche insegnante di religione, quindi dovrebbe cercare di trasmettere ai ragazzini dei valori importanti come la famiglia naturale basata sull'unione tra un uomo e una donna. È stata una scivolata? Direi proprio di no, io sono un insegnante e ho fatto anche parecchi studi di pedagogia per cui un conto è fare il sindaco, un conto è fare l'insegnante. Vediamo i migrati, vediamo i libri gender, vediamo i festival del couscous in piazza, il festival delle etnie, tutto ciò che non ha niente a che fare con la nostra realtà locale. Se ci sono stati esempi negativi in Italia, in alcune città, questo non è certo Bassano. Mi auguro che a breve i cittadini bassanesi possano esprimere un giudizio e bocciare sonoramente questa amministrazione comunale. Grazie a tutti.